massi in strada a casnigo lungo la strada provinciale della valle seriana pesanti ripercussioni sul traffico domani il sopralluogo ardesio cadono massi temporanea chiusura per la strada che porta a ronchi e alti cinque le persone che vivono nella località il muro tra stati uniti e messico e le viagge dei migranti dal sud america fino agli usa nell'obiettivo di giorgio fornoni buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di antena 2 il forte maltempo che si è abbattuto nella mattinata in valle seriana è la probabile causa del distacco di alcuni massi finiti sulla carreggiata della strada provinciale della valle seriana prima delle 7 il tutto è avvenuto nel territorio delle comune di casnigo sul posto sono accorsi i vigili del fuoco l'episodio in modo particolare ha interessato la carreggiata tra la rotatoria di casnigo e l'insediamento produttivo dell'itema intorno alle 9 i massi sono stati rimossi e via via il traffico è tornato alla normalità ne abbiamo parlato con il sindaco di casnigo enzo poli siamo al telefono con il primo cittadino di casnigo enzo poli ci può aggiornare sulla situazione dopo il distacco di massi avvenuto questa mattina che ha interessato la strada provinciale dalla valle seriana allora la situazione attuale è che tutto è rientrato un po nella normalità dopo dopo l'evento che si è verificato stamattina che ha causato anche a livello di traffico notevoli cose quindi quindi disagi la situazione sotto controllo dal punto di vista sicurezza abbiamo attivato ovviamente tutti tutte le procedure per fare un sopralluogo a fine di verificare che non vi siano altre altre condizioni di pericolo e a più breve agiremo quando ci sarà il sopralluogo allora il sopralluogo è previsto nella nella mattinata o nel primo pomeriggio di domani con i tecnici con il nostro geologo con i tecnici dello ster e vediamo un po nel frattempo la strada comunque resta aperta ci sono dei monitoraggi la strada è attualmente percorribile non ci sono pericoli immediati questo si è verificato si è stato subito verificato quindi per il momento potenziali pericoli non ce ne sono il maltempo di questa mattina ha lasciato una scia di danni sul territorio dell'alta valle seriana ad ardesio una strada è stata interessata da uno smottamento che ha portato il sindaco a siglare un'ordinanza di chiusura cinque le persone che vivono nella località temporaneamente non raggiungibile siamo a telefono con il sindaco di ardesio Ivan Caccia il maltempo ha creato problemi anche sul territorio di ardesio sì il problema maggiore salvo qualche pianta radicata si è verificato sulla strada comunale che porta una delle frazioni che si chiama ronchi alti a luta di massi di un paio di metri cubi l'uno abbiamo fatto verificare all'ufficio tecnico anche il versante soprastante dove sembra ce ne siano altri due o tre in precario equilibrio per cui questa mattina abbiamo allertato il genio civile che nel promeriggio effettuerà il sopralluogo io ho già firmato l'ordinanza per la chiusura temporanea della strada se ci viene viene assicurato il pronto intervento da parte del genio civile siamo in grado di allestire in breve il cantiere sistemare i massi in precario equilibrio spostare i caduti e riaprire la strada per il resto del territorio sembra tutto tranquillo qualche problema appunto per l'isradicamento di qualche albero per il vento forti di questa mattina alle 7 ma nulla di particolare se non in questa zona di rompia e si registrano danni anche a clusone sentiamo nicola androletti il maltempo che si è abbattuto questa mattina sulla bergamasca ha fatto danni anche a clusone la zona più colpita è stata quella della pineta dove il vento ha fatto cadere diversi alberi soprattutto nella zona del parco avventura forti raffi che hanno attraversato l'area piegando e sradicando alberi almeno una quindicina le piante in qualche modo colpite alcune facevano parte di percorsi del parco avventura sopra c'erano piattaforme passerelle e altre strutture anch'esse venute giù il parco in questo periodo è chiuso la riapertura è prevista per aprile ma sarà pressoché impossibile farlo tornare come prima visto che sono venuti a mancare alberi dove passavano i percorsi per ora si stanno ancora valutando i danni il parco avventura era già stato investito dal vento nel 2011 anche allora erano caduti parecchi alberi ma i percorsi erano stati risparmiati oggi sono già iniziati i lavori per rimuovere gli alberi nel frattempo si è mosso anche il comune di clusone proprietario dell'area è stato effettuato un sopralluogo e la zona è stata delimitata per ragioni di sicurezza chiudendo le vie ed accesso spiega l'assessore ai lavori pubblici giuseppe trussardi domani verrà effettuato un altro sopralluogo per capire cosa si può fare per attivare le procedure con la compagnia d'assicurazione in vista del risarcimento del danno alcuni alberi sono caduti anche nella zona di san rocco di piario sono stati rimossi nel primo pomeriggio in seguito all'intervento di una ditta incaricata dall'amministrazione comunale anche in altre zone del nostro territorio pioggia e vento hanno causato problemi ad albino gli operatori della protezione civile sono intervenuti per un paio di alberi caduti il primo fiobbio vicino al cimitero ostruiva il transito su una corsia in via colle sfanino sono state rimosse delle ramaglie un paio di tombini sono stati poi fatti saltare dalla la spinta dell'acqua uno nei pressi di via provinciale e l'altro a bondo petello i volontari della protezione civile li hanno sistemati qualche detrito è finito in strada in via tribolina all'incrocio di via fumiano ma non ha compromesso la viabilità gli operai del comune hanno infine provveduto a tappare alcune buche formatesi con la pioggia in via pradella e in via marconi oggi è venuto l'incontro tecnico per la definizione dell'intervento di posa delle passerelle lungo la pista ciclopedonale tra fiorano e casnigo alla presenza della comunità montana dei sindaci e dei tecnici degli enti interessati si è deciso di iniziare le opere nei primi giorni di novembre si tratta di due strutture metalliche che consentiranno di evitare problemi di usura come invece era accaduto con le precedenti in legno costo delle opere 230 mila euro a carico della comunità montana 45 metri è la lunghezza dell'infrastruttura che porta verso casnigo attualmente chiusa 32 metri invece quella che permette di accedere al parco buschina il 9 novembre ricorre il trentesimo anniversario della caduta del muro di berlino in vista di questo appuntamento mercoledì sera a decoder parleremo di muri nella prima parte della trasmissione sarà presente don sergio gamberoni direttore dell'ufficio della pastorale dei migranti della diocesi di bergamo per una riflessione sui muri nel mondo successivamente vi proporremo alcune immagini girate nei mesi scorsi a berlino con un'intervista a danilo taino giornalista e scrittore corrispondente delle corriere della sera da berlino e autore del libro scacco l'europa la guerra fredda tra cina e usa per il nuovo ordine mondiale e infine sentiremo giorgio fordoni parlarci del muro tra stati uniti e messico e del viaggio dei migranti dal sud america fino agli usa vediamo una breve anticipazione fordoni il suo ultimo lavoro ci porta in messico come mai questa destinazione certo perché come ben sai questo è tempo di muri tempo di muri cosa significa come tu già mi avevi raccontato dopo l'abbattimento del muro di berlino in quale punto siamo arrivati della vita ecco quindi oltre alla chiusura dei porti oltre alla costruzione dei muri in israeli come ho raccontato per report come il muro del popolo saraio come ho già raccontato per report così come quello che mi piacerebbe raccontare sulla corea tra nord e sud ecco qui che vedendo nel novembre scorso questa fiumana di gente che tentava in qualche modo di attraversare il muro di trump e lui a tutti i costi tentava facendo la sua campagna elettorale di avere dei soldi per farne di più ecco quindi immaginate che è un muro già lungo 1123 chilometri e lui lo vuol partare addirittura a 3200 chilometri addirittura scendendo anche sottoterra per evitare che i coyotesi riescono a passare sottoterra per il traffico sia della droga che anche di questa povera gente che cerca un futuro nell'aldilà quello ecco che abbiamo visto era il confine tra il centro america e appunto gli stati uniti ecco la parte vicino all'oceano il primo pallino giallo che era uscito era tijuana dove appunto questo questo muro si subentra ecco ma perché poi sono andato sono andato anche per capire cos'è che spingeva la gente la gente soffre tantissimo nel centro america e la gente addirittura tenta di inseguendo i sogni di andare alle cerche di una vita migliore mondo migliore come ovviamente negli stati uniti quindi partono dal centro america salgono sui treni merci prendono posto sui treni in corsa tra un vagone e l'altro e tentano veramente in qualche modo di riuscire perché non hanno soldi sono indocumentados di arrivare proprio vicino al muro e la tentare di poter andare nell'aldilà ma ho avuto la fortuna lì incrociando di notte un treno dove c'era questa gente indocumentados che intrecciando una scena straordinaria tra chi offriva da bere e da mangiare e loro che prendevano un gesto in bianco e nero ma sicuramente un gesto di totale gratuita quindi questa storia del messico è semplicemente perché volevo capire per qual motivo non solo da noi perché nel mondo stiamo arrivando a questo in questo momento inseguendo solamente la paura e disumanizzando totalmente l'uomo se andiamo avanti in questo modo un po così figli felici a scuola come migliorare l'esperienza scolastica dei propri figli con l'aiuto di una larga cervelli è il titolo del libro al centro della puntata di domani sera di target trasmissione in onda alle ore 19 sul canale 88 delle digitali terrestri figli felici a scuola è il titolo della sua pubblicazione innanzitutto perché ha voluto scrivere questo libro allora perché in base della mia esperienza di vent'anni di un servizio psicologico molto strutturato che parte dal primo settembre il 30 giugno ho raccolto molti vissuti e molte esperienze di ragazzi di famiglie e ho notato che spesso la scuola invece che essere una scuola di vita che potrebbe diventare una palestra di felicità spesso diventa un qualcosa che dona infelicità tristezza un dramma e invece io credo che sia possibile che la scuola diventi un ambiente dove una persona stia bene sia felice avrei voluto scrivere figli felici a scuola punto di domanda poi ho detto no lo tolgo perché in base alla mia esperienza credo che sia possibile è una perché vedo e ho notato per esperienza che i ragazzi felici sono anche degli studenti migliori apprendono meglio quindi tutto può essere modificato grazie a una fondamentale attività di analisi se c'è qualcosa che non va bisogna andare un po' a fondo tutto no ma l'attenzione è molto importante che non sia solo su quello che non va cioè sul negativo ma su quello che può essere di positivo sia che il ragazzo in questo caso o anche la famiglia il positivo che ha perché non sempre qualcuno riconosce i presi gli aspetti positivi che ha e anche le potenzialità che potrebbero essere stimolate per il futuro perché i ragazzi anche o i bambini anche se sono molto giovani hanno delle potenzialità incredibili che io ho notato che escono con l'andare del tempo e chiaramente ognuno con i propri tempi quando un ragazzo riesce a prendere coscienza delle proprie caratteristiche allora si sente più soddisfatto aumenta l'autostima e sta anche meglio nel gruppo oltre che in famiglia nella società. Sono molto importanti le relazioni? Assolutamente sì le relazioni ovviamente quelle con la famiglia perché chiaramente il bambino nasce lì e cresce lì ma in particolare le relazioni con gli insegnanti perché le relazioni con gli insegnanti determina anche spesso la motivazione a studiare ad apprendere e la relazione con i compagni perché l'intelligenza potremmo dire non è qualcosa di individuale ma è un costrutto sociale cresce e si sviluppa evolve all'interno di un gruppo e il gruppo per i bambini gli adolescenti in particolare i giovani è molto importante. Una breve pausa tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. Sabato 26 ottobre prenderà in Levia un ciclo di incontri che interesserà diversi comuni dell'Alta Valle Seriana sull'enciclica di Papa Francesco Laudato Si. Avete organizzato un ciclo di appuntamenti sulla Laudato Si. Innanzitutto perché e come vi siete organizzati? Il perché è presto detto cioè è un documento rivolto a tutte le persone di ogni religione e di ogni credenza che mette in luce un aspetto fondamentale cioè che viviamo in una casa comune a tutti quindi non soltanto a noi uomini ma anche al mondo animale il mondo vegetale il mondo minerale per cui è importante che ciascuno all'interno di questo sistema si muova con responsabilità questi sono due concetti che vengono esaltati dal da questo documento per cui partendo da questi presupposti abbiamo pensato di sviluppare alcuni temi che vengono trattati all'interno della Laudato Si. I temi fondamentali sono il cibo perché la natura, il territorio produce il cibo necessario e utile per la nostra sussistenza, per la nostra vita. Il clima perché il clima condiziona sia la crescita del cibo ma condiziona anche la nostra vita in generale e poi l'economia circolare che è sostanzialmente un vecchio concetto però oggi va ripreso in termini moderni perché le nuove le industrie dovranno adeguarsi a questo principio ma anche noi nel nostro agire dobbiamo adeguarci a questo principio. Faccio un esempio, una volta per esempio l'ospedale di Groppino funzionava con a fianco un'azienda agricola. L'azienda agricola utilizzava gli scarti del cibo, della mensa dell'ospedale per mantenere i propri allevamenti di bestiame, i quali allevamenti di bestiame servivano per fornire la carne all'ospedale e quindi c'era un circolo chiuso. Noi dobbiamo riprendere questo concetto, perfezionarlo, modernizzarlo ma riprenderlo. Ecco, gli appuntamenti sono sostanzialmente questi. A partire da sabato 26 al mattino ci sarà l'incontro del professor Valle con le scuole superiori, il Fantoni e quindi ci sarà un incontro con gli studenti molto interessanti. Al pomeriggio invece presso l'auditorium delle scuole elementari di Clusone ci sarà l'incontro con il pubblico, sempre con il professor Valle. Ad Ardesio il 22 di novembre presso il Cinema Oratorio ci sarà Don Cristiano Re che illustrerà l'enciclica nel suo insieme, quindi nei suoi valori sia etici che religiosi e teologici. Il venerdì 6 dicembre 2019 alla ex chiesa di San Rocco a Cerete Basso ci sarà l'incontro con la professoressa Silvana Signori e il rappresentante di Slow Food Bergamo Enrico Radicchi che parleremo del cibo per l'umanità, quindi dai bisogni essenziali a patrimonio di cultura della comunità. Poi a Villa Donia, organizzato insieme con il CAI di Clusone, si svolgerà un incontro con Daniele Izzo e Stefano Dadda, fisico meteorologo il primo e esperto in glaciologia il secondo, sul tema del clima, quindi quale futuro per la nostra terra, il riscaldamento e i cambiamenti climatici del pianeta. Per finire a Ponte Nossa il 24 gennaio 2020, appunto l'anno prossimo, alle 20.45 Sala Caffi si parlerà di economia circolare con il professor Giardini e con Marta Simonetti, responsabile Ambiente e Innovazione del Cotoneficio Albini di Albino. Questo è tutto il ciclo che noi presentiamo per discutere sui questi temi. Naturalmente vi aspettiamo. E salgono tre le colonnine installate a Castellina Presolana che ospitano defibrillatori semi-automatici DAE che consentono agli utenti di ricaricare i bike e cellulari. Già vi abbiamo parlato di quella posizionata nei pressi della baita del Termen sul Monte Pora. L'ultimo totem, il terzo, è stato installato in questi giorni nell'ambito della riqualificazione di Piazza Roma, nel capoluogo, vicino al municipio. Il progetto è stato avviato dal Comune in collaborazione con il Corpo Volontario Presolana che ha provveduto a mettere il totem alla Malga Campo e si occuperà della manutenzione, in particolare dei defibrillatori. Presto sarà promosso anche un corso per l'utilizzo dei DAE. In vista anche la realizzazione di postazioni per la ricarica di veicoli elettrici. E passiamo al calcio. In modo particolare ci occupiamo di una partita della categoria eccellenza. Offanenghese, Darfo Boario, si è chiusa con un pareggio 1-1. In terra cremonese il Darfo raccoglie il secondo punto consecutivo. È la settima giornata del campionato di eccellenza Girone-C. I Camuni sono venuti qui dopo il pareggio ottenuto in casa contro il Tergate. Hanno sofferto molto nei primi 45. Sono andati sotto in apertura di ripresa con il gol di Bamba, poi però sono parsi trasformati. Hanno pareggiato con Baccanelli. Hanno sfiorato nel finale la vittoria. Alla fine è un punto positivo soprattutto per l'autostima e la propria convinzione, anche se la classifica resta ancora deficitaria dalla parte opposta. Invece lo fanenghese riscatta parzialmente la sconfitta di settimana la scorsa 3-1 contro il Prevale. Con un buon primo tempo, un secondo molto meno, comunque riesce a strappare un punto. La formazione della provvizia di Cremona riesce a salire a 7 in classifica. Mister Alex Bonetti, dopo il pareggio contro il Tergate, pareggio anche qui a offanengo per il Darfo, come lo giudica? Io credo che abbiamo fatto un ottimo step mentale perché è la prima volta che riusciamo a recuperare un risultato. Erano andati sotto in un campo dove la partita era sporca, era partita sulle seconde palle. Noi ci siamo adattati, abbiamo fatto una prestazione magari non all'altezza di quella del Tergate, però a livello di voglia di non perdere ce l'abbiamo messa e abbiamo tenuto un buon punto. Sicuramente potevamo vincerla, si poteva anche magari perdere sull'ultima pallina attiva e ripeto è da sottolineare come la squadra mentalmente non c'è stata a perdere. Abbiamo cercato di portare a casa la vittoria, non ci siamo riusciti, ripeto però me lo tengo stretto questo punto soprattutto per la prestazione mentale, per la voglia di non starci a perdere che i ragazzi ci hanno messo. Sì, sì, tutti i partiti sono importanti però è vero, adesso dobbiamo cercare di portare una vittoria perché ci manca, perché i ragazzi si vedono in settimana che ambiscono a questo, che lottano. Oggi prendo l'esempio di Fatì che ha fatto metà allenamento venerdì, gli ho chiesto se c'era, non ho avuto nessun dubbio, mi rispondo è presente, mi hanno d'accordo di fargli fare 20 minuti, poi i fatti della partita mi hanno portato a fargli fare 40 minuti, ora fa fatica persino a camminare però vorrei sottolineare, prendere esempio lui per poi far vedere che tutta la squadra è una squadra che non molla, è una squadra che butta il cuore oltre l'ostacolo e questi sono segnali a mio avviso molto importanti. Ora continuiamo con il campionato promozione San Paolo d'Argon al Prada Lunghese terminata con la vittoria della Prada Lunghese per 3 a 2. La Prada Lunghese si aggiudica questa partita vincendo per 3 a 2 contro il San Paolo d'Argon, una vittoria importantissima per la formazione di Giovanni Astori che così può proseguire il campionato con un po' più di tranquillità dopo la vittoria di domenica scorsa per 3 a 0 è arrivato questo 3 a 2 qui in trasferta contro il San Paolo d'Argon, partita molto combattuta ma la Prada Lunghese ha meritato sicuramente questa vittoria in virtù delle occasioni create soprattutto nel primo tempo che non era riuscita a portarsi in vantaggio ma poi nella ripesa, scoppiettante ripesa viste i gol e le azioni costruite dalle due formazioni. Dopo appunto due minuti di gioco della ripesa Mangini era riuscito a portare in vantaggio la Prada Lunghese che poi è stata raggiunta su un calcio di rigore assegnato al direttore di gara e Tebaldi lo ha trasformato portando il San Paolo d'Argon sull'1-1. Poi però la doppietta di Torri esattamente al sedicesimo e ventitresimo ha portato il punteggio sul 3 a 1 per la Prada Lunghese, poi ancora la reazione del San Paolo d'Argon che è riuscito con Signori a realizzare il gol del 3 a 2 ma poi la Prada Lunghese ha difeso molto bene questo vantaggio fino alla fine. Dunque Prada Lunghese che si aggiudica questo incontro per 3 a 2 e sale a quota 9 in classifica proseguendo bene il suo campionato. Con Giovanni Astori allora parliamo di questa partita, un po' rocambolesca vivace nella ripesa allora tre punti importanti però. Ma penso che per noi siano fondamentali in quanto sapete benissimo lo scorri nostro iniziale per cui oggi noi abbiamo l'obbligo di cercare di vincere tutte le gare che andiamo ad affrontare è ovvio che a volte questa smania di fare può comportare determinati errori che oggi abbiamo commesso in fase difensiva perché loro in realtà hanno fatto due tiri in porta ma abbiamo subito ancora due gol. Ecco diciamo che la partita l'avete sempre condotta voi, nel primo tempo non siete riusciti a sbloccarla però nella ripesa i gol sono arrivati anche se sul 3 a 2 poi questo finale un po' così con un po' d'ansia. Sì sicuramente da evitare, da evitare anche perché poi l'arbitro si fa prendere e si fa coinvolgere pur avendo l'arbitrato bene secondo il mio parere. Alla fine però loro la smania di recuperare, noi probabilmente la paura di portare a casa il risultato ci ha indotto a commettere qualche errore di troppo in fase difensiva per cui dovremmo sicuramente rivedere questo tipo di atteggiamento. Domani sera alle 20.30 torna in onda la rubrica di pareri ed opinioni locali, il sasso nello stagno a cura del nostro. Toni tranquillo. Domani sera alle 20.40 l'appuntamento con il sasso nello stagno, argomento della settimana la memoria, quanto ricordate della vostra vita, soprattutto è meglio ricordare o dimenticare. Lo faremo attraverso anche delle domande simpatiche, molto simpatiche, che hanno raccolto delle risposte altrettanto simpatiche. Non perdetevi l'appuntamento, domani sera alle 20.40 con il sasso nello stagno, Antenno 2 TV e subito come sempre un'anteprima della trasmissione. Non lo so, credo che sia importantissimo, la memoria è la persona se vuoi perché è la somma di tutto quello che sa, più memoria ha più uno è. Lo sai che qualcuno dice che vive meglio se riesce a dimenticare? Cavoli suoi, secondo me è messo male. E poi riesci a ricordare tutto? Certo, più possibile. E' un problema riuscirci, però vabbè, è importantissimo. Adesso seriamente è una cosa importante. Ma anche situazioni magari... Specialmente quelle. Sgradevoli, persone sgradite, insomma. Tendono a svanire da soli, di solito resta in mente le cose belle, però è importantissimo secondo me essere consapevole di tutto quello che è più possibile sapere. Sai che su Facebook ci sono anche gruppi 6 di Clusone, per esempio, e lì escono i ricordi di una Clusone che non c'è più. Cosa ti ricordi di una Clusone che non c'è più? Osti, bei gruppi, anche se non sono clusonese originario, bei gruppi di amicizie che giravano nel paese di ragazzi giovani, milanesi e nono, che non ci sono più, le seconde case usate molto meno di prima, quelle belle compagnie lì che animavano il paese, è una cosa di cui mi ricordo. Ti ricordi ancora a chi faceva parte di quelle compagnie? Certo, chiaro, chiaro. E tanto ci si vede ancora? Sì, qualcuno sì. E si ricordano i vecchi tempi? Beh, chiaro, i bei ricordi fanno parte della vita attuale, nel momento in cui li ricordi tornano reali. E i maestri? Delle elementari? Pure. Te li ricordi? Beh, certo. Io ne ho avuta una. E chi era? Ah, mi ricordo lei, ma non il nome adesso. Bravo, mi hai preso. Mi ricordo lei… Io sapevo che se scavavo prima o poi sarei riuscito a trovare qualcosa… Potevo sparare, ma sono troppo sincero. Potevo sparare, ma stai dicendo… Come l'hai chiamato stamattina? Giovanna! Vabbè, ma vabbè Giovanna. Non sarà maestro? Chiaramente è morta, vista l'età. Vabbè, non sei io. Vabbè, però diciamo le elementari, 50 anni dopo metti che aveva la mia età. Una breve pausa, tra poco. Terza ed ultima parte del telegiornale di Antenna 2. Continuiamo con la programmazione televisiva. Sul canale 88, questa sera alle 20.10, trasmetteremo tempi supplementari. Alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale. Alle 23.40 il rotocalco di agricoltura ed enogastronomia agrisapori. La mezzanotte e mezza, la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Il telegiornale di Antenna 2 tornerebbe in onda alle ore 21.30 sul canale numero 218 del Digitale Terrestre. Mentre invece, per quanto riguarda il canale sportivo, questa sera alle 20.10 sul canale numero 628, trasmetteremo tempi supplementari. Alle 22.30 la partita di calcio San Paolo d'Argon per Adalunghese. L'Almanacco per domani martedì 22 ottobre. Il sole sorge alle 7.41 e tramonta alle 18.28. Il culmine è alle ore 13.05. La durata del giorno è di 10 ore e 47 minuti. La luna sorge alla mezzanotte e 9 minuti e tramonta alle 15.46. La fase lunare, la luna è calante ed è visibile al 47%. La Chiesa ricorda San Giovanni Paolo II. Ecco le previsioni del tempo. Al mattino, martedì, cielo nuvoloso con residue precipitazioni sul settore occidentale. Nel corso della giornata, nubi in diminuzione fino a poco nuvoloso. E temperature saranno in aumento. E con questo è tutto. Noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Noi vi ringraziamo. Grazie.